Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. L'assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini non ha provocato danni erariali al comune. A stabilirlo è la Corte dei Conti, che ha svolto accertamenti in merito ad un atto riferito alla piantumazione di una parte del verde nella zona del passetto. La questione era stata sollevata quando tre anni fa esplose il caso dell'ex geometra infedele del comune Simone Bonci, condannato in via definitiva per corruzione aggravata. Da lì era scattato l'accertamento su una serie di atti, tra cui quello dell'intervento in questione da 55.000 euro, che sarebbe stato retrodatato. Due funzionari comunali, infatti, avrebbero dichiarato l'inizio dei lavori a dicembre del 2018, quando invece sarebbero iniziate a gennaio del 2019. Parallelamente, la Procura sta lavorando per accertare la verità in merito all'atto in questione, mentre la Corte dei Conti ha concluso il suo lavoro. A comunicare la notizia è stata la prima cittadina Valeria Mancinelli. Sulla cosiddetta vicenda Bonci, che ha investito il comune di Ancona, con l'attività, diciamo, penalmente rilevante di quel funzionario comunale, era già stato chiarito inequivocabilmente che nessuno degli assessori, nessuno, aveva avuto minimamente alcun coinvolgimento. A conclusione delle indagini, l'autorità giudiziaria è arrivata a questa conclusione. Il procedimento davanti alla Corte dei Conti si è già concluso, e si è concluso del tutto positivamente con un provvedimento di archiviazione, nei confronti dell'assessore Manarini, con l'affermazione che non c'è stato per quel fatto, che, ripeto, non c'entra nulla con le condotte e con i fatti commessi da Bonci, per quel fatto, anche per quel fatto, non c'è nessuna responsabilità per danno erariale, non c'è danno nei confronti del comune. Questa è sicuramente una buona notizia per l'assessore Manarini, perché restituisce, come dire, piena limpidezza al suo comportamento, ma è una buona notizia anche per la città e per l'amministrazione, perché il fatto che sia accertato, cosa di cui noi eravamo convinti, ma che l'abbia accertato chi per mestiere e per ruolo deve fare questo, che non c'è danno, quando la notizia è che non c'è danno, e non c'è danno ovviamente a carico della collettività, e quindi questa è una buona notizia.